Ginevra 2016, un assaggio così, giusto per cominciare bene, con la Huracan Avio, che è un omaggio all'aviazione, all'aeronautica, a cominciare dal colore. Il feeling è lo stesso, le mancano solo le ali, ma per il resto si vola parecchio con quei 610 cavalli, la trazione integrale. Però dicevo un assaggio, perché poi più tardi c'è la grande attesa, una delle più attese tra le protagoniste di questo salone, ovviamente la Lamborghini Centenario. Più tardi su HdMotori.